Cambiamo argomento, abuso di alcol, dati esagerati. L'azienda sanitaria precisa che i casi di emergenza sanitaria rilevati nei sette ospedali della provincia di Bolzano per sospetto abuso di alcol da parte di minorenni sono solo cinque. La ricerca effettuata, prosegue la nota, ha evidenziato che nel periodo in esame sono pervenute alla centrale di emergenza sanitaria tre richieste di intervento per sospetto di abuso di alcol da parte di minori. Nei sette reparti di pronto soccorso degli ospedali provinciali di Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno, San Candido e Silandro sono state curate in stato di ricovero o ambulatorialmente cinque persone di età inferiore a 16 anni per gli effetti di abuso di alcol. Grazie